Ora la Juve sembra un pochino più aggressiva, soffre il sassuolo, Locatelli, tocco per McKennie, costretto ad appoggiare all'indietro verso Bonucci, che allarga per Di Maria, c'è Danilo, c'è anche il cross in mezzo per McKennie che prova a fare da sponda, non è d'accordo Frattesi, Quadrado mette giù, poi cerca di andare sul fondo, non ci riesce, Alessandro parte l'altraversone, sul secondo palo Di Maria si coordina a calcia e trova il gol del vantaggio della Juve, al 26esimo anche il Di Maria, 1-0, subito decisivo l'argentino che sblocca la situazione molto complicata, Juventus 1, sassuolo 0, esulta lo Stadium. Ha colpito in maniera sporca e ha superato Consigli, Palla che ha battuto per terra, ha preso una traiettoria strana, Consigli non è riuscito a intervenire, alla prima vera occasione la Juve passa con Di Maria. Qui rivediamo Quadrado, appoggia per Alexandro, il cross in mezzo, Di Maria si coordina a calcia, Palla che batte per terra e finisce in rete, per il vantaggio della Juve, nulla da fare per consigli. Voleva un top player, Allegri sembra averlo trovato. Gran gol di Di Maria, probabilmente cerca proprio questo. Questo è il biglietto da visita di Di Maria, ci sono voluti 26 minuti per trovare il primo gol in carriera in Serie A Team. Grazie a tutti.